E' una verità per esempio che la nostra Costituzione, quella che noi viviamo, quella che molti ricordano di tanto in tanto, ma che noi difendiamo giorno per giorno, ha tra i suoi artefici più autentici i 2115 ufficiali, sotto ufficiali e carabinieri caduti e i 5600 feriti. E' una verità che alle vostre spalle, quasi senza che voi ve ne accorgiate, si affaccia e si traduce nella forte figura di salvo d'acquisto, che col suo ampio petto, generoso di fronte al piombo del nemico, ancora sembra proteggervi. Grazie per la visione! Grazie a tutti! 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 Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle leggi. Non possiamo oltre delegare questo potere, né ai prevaricatori, né ai prepotenti, né ai disonesti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.